Sovier, siamo arrivati nei ultimi momenti di questa championship e prima di parlare informativamente, hai detto che è un po' adrenalina. Sì, a questo momento siamo molto vicini al titolo, quindi tutto ciò che succede, ma abbiamo lavorato molto bene per creare questa squadra, abbiamo lavorato molto bene per creare questa carica e, ovviamente, siamo qui per vincere. Sicuramente, al principio della championship, abbiamo avuto il nostro target che era per vincere i due titoli. C'è qualcosa da dire, ma è un'altra cosa di essere qui, molto vicino a questo. Quindi, sì, abbiamo bisogno di concentrare il nostro lavoro sul risultato, per evitare tutti i errori. Siamo che abbiamo i carri, i carri, i carri, i carri, i carri, quindi, credo che tutto è il nostro lavoro. Quindi, dobbiamo fare il nostro meglio. C'è una cosa speciale preparazione di questa squadra o era normalmente in un stato normale? No, se compariamo questa squadra con Monaco, o Berna, per esempio, dove la qualità era la più importante. Qui possiamo ottenere. Quindi, ovviamente, la qualità è molto importante, ma se non siete al polo, potete ottenere. Quindi, è importante, ma non è così importante. quindi, lavoriamo molto bene per la qualità e, ovviamente, per la rata. Potremmo più di Monaco o Berna. La strategia sarà di vedere i punti e essere conservativi o di attaccare? Absolutamente. No, siamo 33 punti in fronte di Audi per la Champions League. 32 punti per i driver. Quindi, ovviamente, non necessitiamo di vincere. Quindi, il soggetto è di ottenere molti punti. Per essere così vicino di Audi e Di Grassi e sarà sufficiente, spero. C'è alcuna difficoltà, soprattutto qui, in questo circuito? Potremmo la temperatura, sì. Non è mai facile qui. E l'altra cosa è che è un doppio leader. Quindi, è molto importante evitare con alcuni grandi problemi durante la prima rata. Grazie, buona luce e vediamo dopo la rata. Grazie mille.